Presidente Guido Abbondanza, premiazione da parte dell'amministrazione comunale, un appuntamento inderogabile e irrimandabile perché è un trofeo non soltanto pinetese ma dell'intera regione e io credo che questo sia un motivo in più di orgoglio per te. Sì, è stato un appuntamento quello di domenica scorsa dove siamo riusciti a colmare e a raggiungere un traguardo voluto e cercato ormai da anni, frutto di una programmazione importante, frutto di investimenti fatti consistenti e finalmente è arrivato questo primo traguardo a livello regionale per quanto riguarda il mondo della pallavola. Motivo di orgoglio non solo per la nostra comunità, la nostra città ma credo che sia anche per tutta la regione. Una squadra che proviene da una città di scarsi 15.000 abitanti che riesce a raggiungere questo obiettivo accanto a squadre che provengono dalla città importantissima anche con centinaia e centinaia di abitanti è un qualcosa che ovviamente ci ha piacevolmente stupito e ne siamo tutti davvero orgogliosi. Io credo che bisogna sottolineare la qualità di questa società che ci ha creduto sempre anche quando le cose andavano in maniera diversa. Ovviamente sì, abbiamo una società che ha dimostrato efficienza, passione, costanza soprattutto negli anni senza mai mollare anche nei momenti di maggiore difficoltà e adesso si stanno raccogliendo i risultati di tanto sacrificio, tanto impegno quindi davvero complimenti ad ABBA, a tutti gli atleti e tutti i volontari, tutto lo staff e anche tutto il pubblico che incoraggia questo grande lavoro che sta portando avanti ABBA.